Andiamo al segno della Vergine, la bella notizia invece è per voi, proprio il sole nel segno del Toro alle ore 17 e 29, stanno cambiando degli equilibri, già con questo Mercurio nel segno del Toro vi siete resi conto che molte situazioni professionali si stanno sbloccando e certi risultati stanno arrivando e questa luna pone l'attenzione, l'accento, proprio su questioni materiali che hanno a che fare con i soldi, che hanno a che fare con il lavoro, che hanno a che fare anche con, non so, degli acquisti che voi dovete fare e che potete fare nella maniera migliore, scendendo il rivenditore giusto, scendendo, scegliendo il prezzo migliore, quindi ottimi affari per voi amici della Vergine e anche una situazione sentimentale che va sbloccando.